Bene, vediamo come ripetere qualsiasi forma attorno a un percorso circolare con Adobe Illustrator. Innanzitutto andiamo a disegnare una forma rettangolare o similare, per esempio questa, in questo modo. Ora andiamo a prendere lo strumento ellisse, tenendo premuto il tasto alta da tastiera, andiamo a disegnare un cerchio che sia sufficientemente proporzionato in modo da definire un percorso netto attorno al quale faremo ruotare questa figura. Per essere sicuri di allineare il tutto selezioniamo le due figure, poi andiamo nel pannello allinea, assicuriamoci di settare allinea selezione e centriamo il tutto in modo verticale. A questo punto, per meglio comprendere il procedimento, andiamo a togliere il riempimento e a definire soltanto il tratteggio, quindi il bordo con un 0,5 di spessore. A questo punto andiamo a selezionare la figura superiore e lo strumento rotazione, facciamo un clic, a questo punto il perno dello strumento di rotazione lo andiamo a prendere con il tasto sinistro del mouse e alt dalla tastiera e lo andiamo a posizionare al centro del cerchio in questo modo. Si aprirà il pannello rotazione, con l'opzione anteprima vediamo come potrebbe essere una rotazione abbastanza lineare e potrebbe essere di 9 gradi, diciamo dai 6 ai 9 gradi manteniamo la distanza tra una figura e l'altra. Lasciamo 9 e clicchiamo su copia. Ecco il clone della figura che inizia la sua rotazione lungo il percorso circolare. A questo punto selezioniamo la seconda figura e con la combinazione di tasti CTRL D andiamo a copiare la figura lungo il percorso circolare. Naturalmente CTRL D da Windows, CMD D da Mac. Ed ecco ottenuta la nostra figura composta appunto da questa rotazione delle piccole figure attorno al percorso circolare. Ma questo è soltanto uno dei mille e uno esempi possibili che possiamo fare con, che possiamo ottenere con questa facile tecnica. Andiamo a ridimensionare in modo da posizionarlo più qua. Possiamo fare naturalmente lo stesso discorso anche con altri tipi di forme. Intanto questa andiamo a alternare i colori tra traccia e contenuto in modo da avere entrambe le versioni. Ecco, così è selezionato tutto. Ma naturalmente possiamo avere altre possibilità di realizzazione. Per esempio con i puntini andiamo a disegnare un cerchio. Questo cerchio ci serve soltanto il bordo. Con il pannello tracciato andiamo a definire sicuramente il bordo. Dopodiché possiamo dargli anche un tratteggio, tratteggio abbastanza piccolo. Naturalmente muovendoci con le impostazioni, con i parametri di questo pannello, possiamo definire le estremità e gli angoli più morbidi, più arrotondati o più duri e più spessi. Possiamo definire anche la spaziatura, oltre al tratteggio, che in questo caso è di 5 punti, la spaziatura potrebbe essere di 12, in modo da distanziare leggermente i trattini l'uno con l'altro. Vediamo il risultato. Questo potrebbe essere un altro tipo di percorso circolare. Se adesso andiamo a disegnare, per esempio, una stella, senza tratteggio, e l'allineiamo, bene, una volta disegnata questa stella, andiamo a ridimensionare ancora di più, dopodiché la centriamo e l'allineiamo rispetto al centro della figura sottostante, poi la selezioniamo di nuovo lo strumento di rotazione, tenendo premuto Alt e il tasto sinistro del mouse, portiamo il centro della rotazione in corrispondenza con il centro della figura. E con il tasto CTRL-D, la combinazione di tasti CTRL-D, andiamo a fare un percorso, quindi moltiplicare la figura seguendo l'angolazione predefinita. Questa è un'altra modalità, ma le possibilità sono tante, possiamo anche, utilizzando il pannello tracciati, andare a disegnare il contorno di una figura circolare punteggiata, per esempio, possiamo farlo con un cerchio, che sia naturalmente omogeneo e proporzionato. Applichiamo sempre una figura circolare al di sotto, in modo da dare la possibilità di eseguire un percorso anche visivamente, poi selezioniamo lo strumento della rotazione, andiamo sempre ad attribuire il centro della rotazione in corrispondenza con il centro della figura posta al di sotto del nostro piccolo cerchio e con la solita combinazione di tasti andiamo a dare un percorso curvo, in modo da farli coincidere perfettamente come se fosse una corona. Poi naturalmente possiamo anche togliere il bordo, togliere il riempimento alla figura centrale e lasciarlo solo ai cerchi, diciamo così, punteggiati, ai cerchi, ai piccoli cerchi che vanno a tracciare il percorso circolare. Naturalmente le forme a disposizione per poter creare questi contorni e quindi per andare a tracciare un percorso circolare in maniera creativa sono infinite. infinite. Possiamo naturalmente creare una forma anche con lo strumento pennino, in questo modo, come se volessimo andare a creare una freccia stilizzata. naturalmente abbastanza libera. anche qui andiamo ad applicare un cerchio senza riempimento, magari con un bordo ancora inferiore allo spessore 1. assicuriamoci sempre di allineare il tutto. poi con lo strumento rotazione andiamo a spostare il centro. ecco la combinazione di tasti e andiamo a dare un percorso circolare in funzione del cerchio interno. immaginate tutto questo con colori diversi e con forme diverse. naturalmente anche le forme all'interno possono avere altre caratteristiche. possono essere più punteggiate, possono essere più tratteggiate. bene, queste sono solo alcune delle tante modalità previste grazie alla combinazione di tasti ctrl D o command D, a seconda che usiate Windows o Mac, ma naturalmente soprattutto grazie allo strumento rotazione. ciao, alla prossima! ciao!